Inaugurato a Silvi il pontile galleggiante con annesso all'agio in uso all'ufficio locale marittimo, uno strumento essenziale che coniuga sicurezza, ambiente e turismo. A questo si aggiunge la liberazione in mare della tartaruga Freedom, dall'inglese Libertà. Ce ne parla il primo cittadino di Silvi, Andrea Scordella. Io ringrazio anche il Fleggo Costa Blu per le risorse che ci sono state donate in questo bando. Questo è un primo pontile galleggiante della costa abruzzese. È una fase sperimentale che potrà sicuramente in futuro essere implementato e dare risposte al turismo. Noi abbiamo una grande tradizione come cittadina della costa adriatica. Vorremmo riprogrammare questo turismo guardando al futuro, guardando anche alla piccola pesca, guardando ai diportisti, guardando a tutti quelli che usufruiscono del mare. Questo è un primo pontile galleggiante, spero che ne seguano sicuramente altri in futuro. E dunque adesso sarà di utilizzo, grazie alla Guardia Costiera, per la fase sperimentale e anche per il controllo dell'area marina protetta. Ecco, non dimentichiamoci appunto del mare, dell'ambiente, della bandiera blu, ma anche della liberazione di questa simpatica tartaruga che appunto potrà tornare nel suo ambiente nativo. Io ringrazio il Centro Cetacei di ricerca di Pescara per questa bellissima iniziativa. Verrà rimessa in mare una tartaruga che è stata salvata e poi curata dal Centro Cetacei. E dunque alla felicità, oltre all'inaugurazione di questo pontile mobile galleggiante, anche per i bambini per rivedere finalmente la libertà di questa tartaruga nella nostra costa adriatica. Donato De Carolis, responsabile marittimo Bruzzo e Molise, specie in Pescara. Silvi si dota di questo pontile galleggiante, una bellissima iniziativa sicuramente per il mare che attrae turismo. Sì, è una bellissima iniziativa targata al Comune di Silvi che aggiunge sicurezza a questo tratto di ritorale in cui mancano delle strutture per poter ricoverare sia mezzi della pesca professionale e sia mezzi di portisti in sicurezza. Ecco, cosa può dare questo pontile dunque in più per incentivare la sicurezza e per incentivare il turismo nel dettaglio? Attualmente questo pontile sarà sperimentato per un anno. Se tutto va bene, ma noi ce la metteremo tutta, sicuramente darà una prospettiva futura per poter anche godere di questo ritorale, quindi dando una maggior facilità di poter raggiungere la costa.